E' notte fonda Marassi, signori, e' notte fonda sulla Samp, e mi dispiace tanto. Termina 2-3 in favore della Cremonese, e da ex abbonato Samp, che ha visto la Samp praticamente a un passo dalla Champions League, quindi vederla quest'oggi ultima in classifica è qualcosa di veramente strano, veramente inspiegabile, anche perché quest'oggi la Samp ha avuto la partita in pugno, ha avuto occasioni, e' andata in vantaggio con le RIS, si e' fatta pareggiare, e' riandata in vantaggio, e poi e' riuscita a perdere la partita. Incredibile, gli ultimi minuti sembrava avesse molta più fame la Cremonese più che la Samp, ed e' inaccettabile buttare via una possibilita', non la certezza, ma la possibilita' di rimontare sullo Spezia per esempio, in questo modo, cioè perdere in casa in questo modo, oggi era una battaglia, i giocatori dovevano dare la vita in campo, dovevano dare tutto, dovevano veramente non avere né un rimpianto, né un rimorso, e invece penso che ne avranno perché hanno sprecato occasioni. A volte si sono un po' intestarditi nel cercare la giocata, magari individuale, più che fare l'assist al compagno, questo ovviamente non lo posso dire né a Ugello né a Gabbiadini, ma a qualche altro sicuramente si. Perché dico di no a Ugello né a Gabbiadini? Beh a Ugello perché ha fatto i due assist per i due gol, e a Gabbiadini perché nel secondo tempo ha messo due volte in porta i compagni che non sono stati in grado di sfruttare l'occasione, le occasioni, e queste cose le paghi ragazzi, queste cose qui si pagano, si pagano, si pagano. Oggi la Samp doveva essere concreta, cinica, doveva difendere con il sangue negli occhi, doveva veramente essere una muraglia dietro, una muraglia, specialmente dopo aver trovato il gol del vantaggio, poi dopo essere andata in vantaggio doveva essere una muraglia, invece ha preso un gol veramente ingenuo, specialmente il secondo, veramente ingenuo, con una chiusura difensiva sbagliata, veramente imbarazzante, cioè un gol ha preso un gol con un cross che arriva dalla linea di fondo per un'errata chiusura e un gol preso di petto barra pancia, non esiste, prendere un gol così e poi addirittura il gol del 3-2. Di Sernicola che ha fatto un gol che se l'avesse fatto Cristiano Ronaldo lo vedremo per quattro mesi in tv, Sernicola si è inventato un gol stupendo, a mio avviso, veramente un gran gol, se ci riprova 800 volte, sono sicuro che se va bene gli riverrà una volta e forse nemmeno così bene, però ecco, gli errori si pagano, gli errori si pagano, gli errori si pagano, cioè c'è poco da fare. In questa partita qui un compagno è come la tua famiglia, cioè tu dovevi, i giocatori di campo dovevano morire l'un per l'altro oggi, dovevano lottare l'un per l'altro, dovevano sacrificarsi, dovevano veramente fare qualsiasi cosa, pur di rifendere il risultato, invece c'è stato chi ha preferito cercare la gloria personale, invece che magari dare una palla un po' più comoda al compagno e poi alla fine queste cose qui si pagano. Io vorrei sottolineare la prestazione di Zanoli, secondo me ha fatto una buonissima partita, anche lui ha sprecato un'occasione, però a mio avviso ha fatto una buonissima partita e vorrei sottolineare la prestazione di Augello, non solo per i due Assin, ma perché ha fatto a mio avviso una buonissima partita da un giocatore che non merita di andare in B. Questo è poco ma sicuro, tra l'altro questa era una partita in cui il ricordo di Gianluca Vialli era sicuramente vivo, visto che ha rappresentato giusto qualcosina per la Samp e per la Cremonese e la Samp non è riuscita, a mio avviso, ad onorarlo nella maniera giusta. Cioè ragazzi io non mi spiego come la Samp possa essere l'ultima in classifica dietro la Cremonese, non ha certo una rosa inferiore alla Cremonese, è vero che ha tutti i problemi societari, tutto quello che vogliamo, però ragazzi dai ma non esiste una roba del genere, cioè proprio uno scandalo, proprio barazzante. Poi tra l'altro i genuani staranno godendo ancora di più anche perché il gol dell'1-1 l'ha segnato Ghiglione. Però ragazzi il primo gol della Cremonese ci sta, alla fine c'è stato un bel cross di quagliata e Ghiglione colpendo in maniera sporca ha trovato la rete. Però poi non puoi regalare il secondo gol in quella maniera lì e il terzo gol comunque arriva da un altro errore difensivo. La Fianaghian prende il palo, la palla poi arriva tra i piedi di Sernicola che si inventa questo gol, cioè tu non puoi prendere un gol così, non esiste ragazzi, non esiste, non esiste assolutamente, non esiste assolutamente, non puoi buttare via una possibilità di salvezza in questo modo, no. Poi vorrei far notare la differenza tra quando è entrato Murro e quando c'era Ugello. Cioè Murro non si è mai visto, Murro è otto livelli sotto a Ugello, è una roba allucinante Murro, allucinante. E poi mi direte, è vero, è entrato pochi istanti prima del recupero. Sì sì sì, ma prima su quella fascia lì la Samp andava, è entrato Murro e nulla. Poi per carità non è che sto buttando la croce a Murro, ci mancherebbe, però siccome non è la prima volta che noto la differenza, oggi la voglio sottolineare. Comunque ragazzi, c'è poco da stare a dire, i tre punti alla Cremonese non servono a nulla se non alla soddisfazione di questa squadra di aver vinto a Marassi in casa della Samp. Ma penso che la Cremonese sia condannata alla B. E la Samp ha buttato via tre punti importanti per la salvezza e la Samp se non andrà a essere B. Lo dico veramente con l'amarezza, però così, cioè alla fine quando in società c'è il caos. Tu in campo non riesci a portarti dei risultati, anche un po' per sfortuna, ma io dico sempre che la fortuna aiuta gli audaci, quindi devi anche essere bravo e capace di girarti e portarti la fortuna dalla tua parte. Devi... in questa partita dovevano fare molto di più, dovevano dare tutto. hanno concesso degli errori, che una squadra che si deve salvare non si può permettere di concedere contro un avversario che era ultimo in classifica. Hai preso tre gol dalla Cremonese, che ragazzi, cioè... come fai a prendere tre gol in casa dalla Cremonese? La Cremonese ha fatto... aveva fatto poco più di 20 gol in campionato, cioè non esiste che tu prendi tre gol in casa e questo è il risultato. Cioè, la Samp ha subito 50 gol, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? 50 gol e direi che le statistiche sono aggiornate, 18 gol fatti. Ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Imbarazzanti. Però io vi giuro oggi mi aspettavo di più dalla Samp, mi aspettavo di più. Ripeto, mi aspettavo difendere il risultato proprio... allo strenuo delle forze, cioè proprio... Io mi sarei aspettato di vedere i giocatori veramente... distrutti in campo, dallo sforzo fisico, crampi, eccetera... ma che avrebbero difeso il risultato proprio allo strenuo, proprio... e invece... invece no. E invece... gli errori si pagano. Gli errori si pagano. E niente. Comunque, complimenti alla Cremonese per questo... per questo... per questi tre punti. Pochi complimenti alla Samp, cioè c'è poco da fare complimenti alla Samp. Ripeto, a me quelli che sono piaciuti di più sono stati Augello, Zanoli e Gabbiadini nel secondo tempo. Però anche lì... non ricordo neanche una conclusione di Gabbiadini. E questo deve far molto riflettere. Cioè, è quello che comunque potrebbe fare qualche gol in più. Non tira in porta una volta. Di che stiamo a parlare? Va bene, ragazzi. Un forte abbraccio. Iscrivetevi al canale, diffondete il verbo. Io adesso carico le batterie in vista di Lazio giovedì stasera. Forza e coraggio. Un grande abbraccio ai tifosi della Samp. Un grande abbraccio ai tifosi della Samp. Un grande abbraccio. Iscrivetevi al canale, diffondete il verbo. Ciao.